Buon pomeriggio a tutti, vi parlerò degli isotopi di nitrato e come il fingerprint di questi isotopi può essere utilizzato per andare a individuare le sorgenti di nitrati in vari corpi aquei. Vengo dal laboratorio di bioscienze degli isotopi in sede a Ghent in Belgio per iniziare 15 anni di gestione dei nitrati nelle fiandre. Abbiamo cominciato ad attuare un programma di monitoraggio molto simile a quello che è presente qui, vedete i puntini rossi, sono 800 soltanto per le acque di superficie. I punti di monitoraggio e poi si misura la concentrazione di nitrati ogni mese. Quello che ne viene fuori, questo l'ho visto di neccente e sono rimasto sorpreso, lo vedete in blu la concentrazione di nitrati sulle acque di superficie e nel 99 era una media di più di 30. Ed è disceso se seguite la linea blu ad una media che è lunga al di sotto del 20. Se seguite la linea rossa, anche quella in calo, la percentuale dei punti di campionamento che superano la soglia di 50 ppm. Quindi questo era più o meno l'oratore per utilizzare il microfono, un accesso del 60%, i punti che superavano i 50 ppm e adesso ci stiamo avvicinando al 10%. Questo è l'obiettivo per il 2015. In ogni caso, per me è stato un grandissimo successo dovuto all'attuazione della direttiva sui nitrati, la direttiva quadro acque. Rimane la domanda, quali sono le sorgenti dei nitrati sulle acque di superficie e voglio iniziare leggendomi questo se vuole. Se siete incerti andate a cercare le informazioni ulteriori prima di agire. Ve la spiego questa cosa, nei giorni di sole, quando il sole è presente bisogna agire, lascio l'ombrello a casa, devo decidere, mi porto l'ombrello o me la porto a casa. Se guardate il tempo di oggi non cercate informazioni extra, siete sicuri di poter lasciare l'ombrello a casa. Quando il giorno è un po' grigio, magari potete controllare, aprire il computer e cercare le previsioni per Roma. Sulla base di quelle informazioni agite e decidete sì o no se portarvi dietro l'ombrello. Esattamente è quello che vale per quello che riguarda gli esotobi di nitrato. Conoscete la concentrazione dei nitrati, se aumentati o diminuiti, ma per attuare un piano di gestione adeguato ci vogliono informazioni extra. Queste informazioni extra, ve le farò vedere, possono con una certa certezza essere derivate dalla composizione isotopica dei nitrati. Questa è la teoria. Questa è la teoria. Quindi, sull'asta delle X vedete il delta 15N e sulla Y il delta 18O. L'abbiamo realizzato nel 2009, basato su tutte le sorgenti nitrati che sono state misurate in letteratura. E potete vedere, lo mi cederò un'altra volta, vedete i nitrati che vengono dalla precipitazione, quando piove i nitrati nei fertilizzanti in verde e poi l'ammonio nel fertilizzanti in celeste, in nitrogeni, il suolo in arancione. E poi questi, per esempio, riquadri dove ci sono le tame e le acque reflue, vedete a destra. Le tame e le acque reflue sono difficili da separare con il 15N perché seguono la stessa riquadro. Come è stato detto stamattina, possiamo utilizzare questi isotopi di boro, che se sono di elevato valore, indicano le tame, se hanno un valore inferiore, in alto, all'insù, o fertilizzanti minerali oppure sono come sorgente e acque reflue. Bene, ora, questa mattina ho ascoltato con attenzione, avete parlato dei costi per gli isotopi, da 300 a 500 euro per campione, tanto e tantissimo. Ho ascoltato grande attenzione, lei ha parlato non includendo la logistica. Questo non è vero in realtà perché quelli che si occupano delle agenzie ambientali nelle Fianza devono andare in giro per accogliere campioni per la misurazione delle concentrazioni di intrati. Quindi si può fare la stessa analisi per gli isotopi. Quindi la logistica in un certo senso, secondo me, è inclusa. Ora, devo spiegarvi, ho una presentazione completa, ma la salterò. Qual è la condizione dei corpi acquei? Si può fare il monitoraggio classico o quello degli isotopi? La domanda è, queste informazioni attraverso gli isotopi? Questa è la storia dell'ombrello, ve lo portate l'ombrello o lo lasciate? Sulla base di questo, progettare e migliorare le decisioni attraverso queste migliori informazioni, ma prima di decidere di pagare l'analisi degli isotopi, bisogna fare una specie di analisi costi-benefici. E questo dipende dal costo per ottenere questa informazione, il costo per ottenere questa informazione che è il costo dell'analisi per gli isotopi. E questo deve essere controbilanciato rispetto al valore economico di un migliore processo decisionale. Poi abbiamo fatto una specie di analisi, vedete lì i costi del danno, per esempio, se si ha l'acqua potabile bisogna trattarla per poter eliminare le entrati, questo è un costo dei danni. Quindi se il costo danni aumenta il valore economico di ulteriori informazioni, in questo caso è basata sugli isotopi, è in aumento, anche i costi in questo senso aumentano. Bene, vi fornisco un paio di esempi di quello che abbiamo fatto in Belgio, stiamo facendo dei lavori riguardamente agli isotopi anche in Africa. E quello che volevamo fare, volevamo quantificare i sorgenti di nitrati nelle acque di superficie, quanto viene dall'etame, quanto dal suolo, quanto dai fertilizzanti e così via. Ma poi un passo successivo era quello di vedere se era possibile utilizzare questo fingerprinting isotopico dei nitrati, se era possibile classificare le acque di superficie nelle fiandri in varie classi di inquinamento, ci ritornerò ovviamente. E poi questo ci riporta ai costi, è stato citato se non mi sbaglio anche questa mattina, abbiamo valutato la possibilità di utilizzare dati chimico-fisici semplici, l'ammonio, i nitrati, la conduttività elettrica, per recuperare queste classi di inquinamento a dei nitrati come stabiliti attraverso gli isotopi. Se si riesce a fare questo si possono ridurre i costi, perché queste analisi classiche sono anche più economiche di quello che è l'analisi che si fa utilizzando gli isotopi. Quindi la metodologia, ovviamente innanzitutto abbiamo potuto selezionare dei punti di campionamento per i varie classi di inquinamento dei nitrati. Nella prima fase, queste sono state fatte, poi spiegherò più avanti, sulla base di un giudizio esperto. Abbiamo chiesto agli esperti di organizzazioni che erano in contrasto l'una con l'altra, per esempio le organizzazioni agricoltori, le organizzazioni ambientali, i punti di campionamento. Secondo voi dov'è il problema? È un problema agricolo o un problema di sorgente civile? E quindi siamo arrivati a questo accordo, questi 30 punti di campionamento, sia le organizzazioni degli agricoltori e quelle ambientali hanno concordato dicendo che il problema sta là. E poi, quello che è stato detto stamattina, abbiamo calcolato la proporzione delle sorgenti di nitrati utilizzando questo modello SIAR, modello di mescolamento isotopico bayesiano e un campionamento effettuato mensilmente per due anni, un set di dati abbastanza ampio. E poi siamo andati a parlare con i matematici e abbiamo cercato di riclassificare questi 30 punti di campionamento in cosiddetti classe di... e quindi... e... in un certo senso quello che abbiamo eseguito per cui innanzitutto la classificazione degli esperti dei punti di campionamento basato semplicemente ovviamente sulla conoscenza degli esperti dell'esperto in questione utilizzando immagini di Google Earth e poi immaginare per esempio lo schema di concentrazione di nitrati era presente, questo per esempio è una classe dove l'agricoltura rappresenta il problema se guardate l'immagine vedete soltanto campi agricoli e avete lo schema classico di un aumento di concentrazione di nitrati in superficie in inverno e invece meno concentrazione in estate, questo lo abbiamo fatto ovviamente in base agli esperti sono 5 le classi, l'agricoltura e poi c'è l'agricoltura con la compensazione delle acque sotterranee vale a dire che c'è una specie di diluizione con le acque sotterranee pulite e poi agricoltura con l'orticoltura quindi l'agricoltura e poi l'orticoltura e poi elevata concentrazione di serra di serre e poi invece la sorgente civile quindi per esempio l'agricoltura agricoltura con compensazione delle acque sotterranee quindi una diluizione agricoltura e l'articoltura attività ammise elevata concentrazione di serre e invece sorgente civile e adesso e poi qui sarò rapido questo è il stesso diagramma il delta 15 N in funzione del delta 18 O dall'alto verso il basso vedete le 5 classi in blu nel periodo invernale rosso il periodo estivo e vedete le frecce ma da qui se guardiamo vi chiedete che cos'è che cos'è non ci aiuta in nulla non ci aiuta affatto no? giusto? l'unica cosa che potete vedere è che c'è una classe G gas serra l'angolo qui potete dire che sono fertilizzanti basati su nitrati e vedete che la sorgente civile è molto più a sinistra fondamentalmente questo non vi porta molto più in là il passo successivo è stato andare a guardare l'isotope di boro inoltre vedete le classi la classe agricoltura innanzitutto metto prima tutto qui vedete i valori delta 11 di boro indica che è l'etame il problema e tutte le classi agricole rientrano qui le verde sono agricoltura poi i quadratini vuoti sono l'agricoltura con compensazione dell'acqua esotterranea poi agricoltura e agricoltura che sono le croci quindi questa cosa ha risultato già chiara e poi al di sotto della linea rossa in blu in azzurro sono le serre e in giallo i puntini gialli sono la sorgente civile quindi questi due isotopi di boro dicono che o sono fertilizzanti minerali o che sono acque reflue il che significa per il civile per quelli gialli eravamo sicuri al 100% che era provocato dalle acque reflue perché in casa non si mette nella lavatrice il fertilizzante minerale quindi la sorgente civile era chiaramente già separata soprattutto basata sull'analisi degli isotopi di boro e da questo risultava che era la sorgente civile passo successivo è la classificazione di attività di inquinamento da nitrati utilizzando questo modello di mescolamento isotopico da questo modello di mescolamento risulta e vi faccio vedere soltanto un esempio quello che risulta lo vedete qui sull'asse delle sulle X è il contributo in proporzione di una sorgente in percentuale se volete e poi vedete passando dal basso verso l'alto vedete le tame suolo nitrati nelle acque piovane nei fertilizzanti e poi ammonio in fertilizzanti ancora queste sorgenti se rapidamente si dà uno sguardo a questo grafico si vede per la classe agricola le tame le varie riquadri sono semplicemente i punti diversi di campionamento avevamo 6 per classe avevamo 5 classe 6 per classe 30 in totale e si vede che le tame dà un contributo in media del 60% nell'azoto nel suolo il 15% e tutte le altre sorgenti metallizzanti minerali precipitazioni sono contributi veramente inferiori del tipo 5 non neanche arrivano al 10% in realtà e poi questo l'avremmo dovuto mostrare prima forse questa è la media di tutte le tre tutte le diverse interpretazioni vedete 60% per le tale 15% suolo e contributi in più ridotti di tutte le altre sorgenti ed è così che l'abbiamo realizzato per tutte le varie classi non mi metto lì a scendere in dettagli per le altre classi questo è semplicemente per farvi vedere questo è quello che noi chiamiamo il nostro fingerprint di contributo percentuale vedete i vari grafici tutti i dati l'agricoltura le serre gas non ci ho messo semplicemente gli altri questo contributo in percentuale delle varie sorgenti potenziali per varie classi di inquinamento adesso ripeto le 5 agricoltura agricoltura con compensazione delle acque sotterranee agricoltura orticoltura serre e civile tutti questi contributi percentuali sono stati inseriti in un tutto in un solo set di dati e poi abbiamo realizzato questo clustering per poter verificare se gli esperti questo clustering che eminse per vedere se gli esperti avevano ragione o meno se le clustering sicuramente erano 5 o meno non scendono i dettagli ma di fondo in realtà le classi sono risultate essere 4 l'agricoltura agricoltura e articoltura che avremmo potuto aspettarci dall'inizio rappresentavano una sola classe e poi agricoltura compensazione delle acque sotterranei a seconda classe serre e civile quindi 4 classi di inquinamento per quello che riguarda i nitrati nelle fiandre sulla base di questo fingerprinting degli isotopi isotopico e poi questo valore tanto per dirvi che vedete le varie opzioni vedete il valore 07070707 non scendono nei dettagli ma questo significa semplicemente che sulla base del fingerprinting isotopico delle nitrate attraverso questo modello di mescolamento isotopico con questo approccio K-means siamo riusciti a recuperare il 75% della classifica fatta dagli esperti quindi in altre parole il nostro approccio con gli isotopi concorda nel 70% dei casi con quello che hanno affermato gli esperti e credo che vada abbastanza bene se si utilizza qualcosa che è completamente indipendente uno strumento chimico e al 70% è in accordo con quello che esperti che sono in conflitto fra di loro affermano il 70% è l'indice di consenso quindi il clustering K-means utilizzando il prodotto Sier riesce a raggiungere il 70% di accordo con la classificazione degli esperti qui abbiamo fatto la classificazione finale qui abbiamo utilizzato i dati chimico-fisici e abbiamo utilizzato il modello dell'albero decisionale ancora una volta vediamo qui che abbiamo avuto non ho una penna laser vedete A a sinistra per voi è la classificazione degli esperti qualcuno l'ha fantastico qui vedete la classificazione è fornita dagli esperti e qui i dati chimico-fisici l'isotope in concentro qui abbiamo utilizzato i dati chimico-fisici da soli utilizzando soltanto i dati chimico-fisici abbiamo raggiunto una corrispondenza del 70-75% rispetto a quello che è stato affermato dagli esperti qui a destra la classificazione realizzata dalla del classering a tre mezzi anche qui un 70% è promettente anche questo è possibile utilizzare semplicemente i dati chimico-fisici per suddividere le varie classi di inquinamento in base agli esorgetti e questi ci danno un'indicazione di quello che è il problema il problema sono il campo settore civile l'SR o cosa viene innanzitutto queste classi vanno costruite o sulla base delle conoscenze degli esperti o attraverso gli isotopi se vengono a mancare le conoscenze degli esperti perché magari ci sono dati di moderaggio se non si hanno dati di moderaggio si possono costruire le classi e l'unico strumento che si può utilizzare sono gli isotopi e questo è quello che vi ho già detto voglio dedicare 5 minuti a farvi vedere le cose che stiamo facendo in Africa questa è la città di Kinshasa e nel Congo una repubblica democratica del Congo una città di 10 milioni con l'assenza di qualsiasi servizio di purificazione delle acque nessun servizio fognario è pieno di cose del genere mercati locali quindi non c'è servizio fognativo materiale bottato per terra la fornitura di acqua potabile è praticamente basata su semplici pozzi le persone non se ne rendono conto quindi la concentrazione di nitrati nella città di Kinshasa raggiunge per i nitrati e questa è il range vedete e questa è la media 40 e più quindi grosse variazioni abbiamo ripetuto la stessa cosa a cui vi faccio vedere queste cifre vedete qual è il problema il problema è soprattutto vedete il blu sono tutti a basso concentrato di nitrati questi un po' fuori dal centro cittadino e lì vedete chiaramente basse concentrazioni di nitrati i puntini in blu la sorgente il suolo ma è logico ma se avete maggiori concentrazioni in rosso si arriva al problema che è il l'etame e le acque reflue sono il problema un altro esempio una foresta tropicale di montagna a Rwanda nella parte sud-occidentale del Nwanda vicino al lago Kiwi qual è il problema? non ancora ma sta diventando il deposito di nitrogeno dall'atmosfera non vi do i dettagli ma questi sono un po' i sunti per anno 2,5 kg come l'ammonio e i nitrati 5 kg se lo sommate si arriva a 8 kg già 8 kg una foresta in Belgio e tra qui 20-35 nella valle del Po più o meno simile o forse più elevata dal deposito di azoto questo è il confronto per cui se misuriamo i nitrati che escono da questa foresta a origine troviamo dei valori estremamente elevati 20 kg di azoto per ettaro quindi è un'elevata perdita e questa perdita è 4 volte l'input l'input è 5 e la perdita è 20 kg quindi sono 4 volte il valore iniziale la domanda è qual è la sorgente di questo nitrato è il deposito o è all'interno del suolo per cui utilizziamo gli isotopi vedete qui 15 n in funzione del 18 o la composizione isotopica nella deposito chiaramente lo troviamo in queste riquadri vedete se andiamo a misurare al di sotto nella foresta la lisciviazione 18 cm nel fiume che è qui chiaramente passiamo dal segnale nitrati atmosferici ai nitrati del suolo quindi i nitrati perduti da questa foresta non sono quelli che sono depositati sulla foresta sono i nitrati del suolo che vengono elaborati dopo la mineralizzazione e poi se guardiamo gli alberi vedete se utilizziamo la sorgente e utilizzano l'ammonio e non i nitrati ulteriore conferma che c'è una perdita di nitrati e poi nel momento in cui raccogliamo campioni da 5 fiumi diversi in Kenya che poi sfociano nel lago Vittoria quindi grandissime aree plantagioni di caffè di tè coltivazione di mais qui abbiamo grossi problemi il lago Vittorio ha grossi problemi e piene di questi abbiamo problemi di eutrofizzazione e quindi cerchiamo di capire qual è la sorgente dei nitrati all'interno del lago Vittorio e ho completato la mia presentazione grazie mille credo che ci saranno magari tante domande ma prima facciamo l'altra presentazione poi rimandiamo un po' Grazie a tutti.